Durante un'intervista nel corso di un programma televisivo, il ministro per la famiglia Lorenzo Fontana fa sapere che il governo lavora un assegno unico che va dai 100 ai 300 euro per ogni bambino, da zero fino a 26 anni. La manovra è stata pensata per contrastare il callo demografico, che ormai ha raggiunto il livello senza precedenti per il paese. Il ministro Fontana ha poi spiegato, tenteremo anche a livello europeo di far capire che gli incentivi alla natalità devono essere considerati come un investimento. Il presidente della Rera, Stefano Besseghini, nella sua prima relazione annuale ha evidenziato che della platea avente diritto ai bonus sociali sulle bollette ne beneficia solo il 36%, peraltro con una significativa variabilità territoriale e con un rapporto inversamente proporzionale alla concentrazione di potenziali destinatari. Besseghini ha poi aggiunto, su 2,2 milioni di famiglie con una certificazione ISEE utile per l'accesso ai bonus, solo 800.000 nuclei familiari hanno effettivamente usufruito del bonus elettrico. Cresce la domanda e l'interesse degli stranieri nei confronti dell'Italia. È stato infatti rilevato che tra il 2015 e il 2018 il numero di ricerche su Google legate al Made in Italy e alle parole chiave ad esso collegate è cresciuto del 56%. Questo quanto emerge dal rapporto Italia 2019 Geografie del nuovo Made in Italy, realizzato da Simbiola, Union Camere e Fondazione Edison. Anche un'indagine condotta da Ipsos presenta risultati lusinghieri per l'Italia. Mostra infatti che il bel paese è tra le prime dieci nazioni al mondo per investimenti in ricerca e sviluppo, il primo per riciclo di rifiuti. Lo studio rileva anche che solo un italiano su dieci conosce questi dati e il 51% ritiene addirittura la notizia non credibile. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono a tutti gli effetti patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Un'eccellenza del nostro paese che entra ufficialmente a far parte della lista del patrimonio mondiale che ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale. Ad annunciarlo via Twitter il ministro degli esteri Enzo Moavero milanese, le splendide colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono il 55esimo sito italiano iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Con la decisione dell'apposito comitato di selezione UNESCO spiega il ministro si riconosce il valore universale di un paesaggio culturale agricolo unico scaturito da una straordinaria sapiente interazione tra un'attività produttiva di eccellenza e la natura di un territorio affascinante.